Davvero da un mese ormai alla manifestazione perché possa essere come tutti gli anni il perdono il momento in cui ci ritroviamo perché ci ritroviamo come comunità e la nostra piazza, gli spazi pubblici diventano luoghi in cui si fa comunità durante questa settimana e per noi anche un po' il modo simbolico per chiudere l'estate perché poi per zona filina rappresenta anche questo l'ultimo momento di festa prima di ripartire con le attività del quotidiano poi da settembre quindi per noi è davvero un piacere stamani poter presentare questo programma, le tante iniziative e l'impegno fondamentale di prologo con Trade e di Alistia siamo andati in visita a Cantieri, c'è grande operosità nei nostri quattro cantieri con le porte e il grande passo dello spettacolo degli sbanderatori e anche quest'anno aspettiamo una delegazione di Fungstad del nostro comune gemellato in Germania quindi ogni anno anche questo si rinnova la voglia e il piacere anche dei nostri comuni gemellati di venire a vedere questo bel momento sul territorio io sono andato